Ugo Rossi, candidato sindaco di Trieste per la lista 3V, continua la propria campagna elettorale puntando al momento sulle iniziative in piazza contro il Green Pass, definito una limitazione delle libertà personali, stasera dalle 18.30 quella più recente. Manifestazioni dove fra l'altro i vari candidati hanno modo di presentarsi in attesa dell'appuntamento ufficiale a fine agosto, primi di settembre. Rossi al momento si trova in quella situazione dove la protesta deve trasformarsi in proposta. Il punto principale del nostro programma politico è proprio liberare i cittadini da queste misure assurde, quindi come sindaco e come sindaci 3V in tutte le città dove ci presenteremo prendiamo l'impegno con i cittadini di fare delle ordinanze che andranno contro queste misure estettive del governo. Ovvio sarà una battaglia legale ma non abbiamo paura, il sindaco e la massimatorietà sanitaria del territorio e noi prendiamo l'impegno di reattivare la costituzione e la carta dei diritti umani. Non c'è solo la battaglia contro i provvedimenti del governo, si stanno infatti affacciando ulteriori elementi del programma di Rossi sempre in un'ottica green. Poi ovviamente ci sono tutte le questioni della città, dal programma rifiuto zero che ho molto al cuore da ecologista fino alla mobilità sostenibile, al trasporto pubblico gratuito e ovviamente quello che mi preme di più è tornare a creare un dibattito pubblico e partecipato con la cittadinanza, quindi basta in posizione dall'alto e poi i triestini aspettano molte risposte dal tram di Oppicina fino alla piscina termale.